Ancora ben ritrovati dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Cesare Martignan. In A12 coda per lavori tra Massa e Versilia in direzione a sud verso Rosignano. Prudenza per personale su strada in A1 tra Valdarno e Monte San Savino in direzione a Roma. In FIPI lì troviamo coda a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici in direzione a Firenze. Sul raccordo autostradale Siena-Firenze in direzione a Firenze il restringimento di carreggiata tra Travarnelle e Bargino e restringimento di carreggiata in entrambe le direzioni con doppio senso di circolazione in carreggiata a ovest all'altezza di Poggi Bonsi. Sul raccordo Siena-Bettolle per lavori fino al 26 settembre è chiuso lo svincolo di Sinalunga in entrata e in uscita in direzione a Siena. A Firenze disagia la circolazione per lavori in via Panicale. Muoversi in Toscana un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre informazioni e aggiornamenti sui nostri canali social. Buon viaggio!